Sì, diciamo che abbiamo iniziato con un po' di difficoltà con la Namibia a livello di gioco, l'espressione del nostro gioco, però poi a livello di risultato comunque abbiamo fatto i 47 punti. Quest'ultima partita invece è dove ci sono state un po' più di certezze nel nostro gioco, abbiamo trovato un po' più di qualità e quindi anche nell'espressione del nostro gioco è stato molto meglio e il risultato ha parlato. Adesso c'è una partita nettamente più difficile, lo sappiamo benissimo, contro il Sudafrica, ma è un'opportunità e quindi la giocheremo al meglio per le nostre possibilità. Giocare questo secondo mondiale ovviamente penso che sia il sogno di tutti, giocare questa competizione, quindi ogni volta che c'è la possibilità di entrare in campo, che ti viene data l'opportunità, si dà tutto quello che sia. È molto importante che tutta la famiglia ci stia vicino in qualche modo, insomma, telefonicamente o come è possibile, però ovviamente è venuto anche mio padre Veniero, che lo saluto, e qui in Giappone ha colto l'occasione per visitare un po' anche questo paese. Questa cosa sono molto contento ovviamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.